Scritto in modo comico, con dei risvolti psicologici. Ecco, questo può essere bello a livello artistico, a livello di originalità, però ovviamente alla massa piace poco, nel senso che è difficilmente vendibile un prodotto del genere. Ecco perché comunque la raccolta di poesie potrò pubblicarla tra un po', penso, quando avrò un minimo di nome, perché è difficilmente definibile. Il romanzo è più semplice da pubblicare. Sì, certamente, le poesie, anche Pirandello si scrive, insomma, è difficile da vendere oggi. Questa dipende anche dal tema della poesia, dal modo in cui sono scritte, anche dal linguaggio che tu poi alla fine vai a scegliere. Il linguaggio è forte, infatti, è abbastanza moderno. Invece l'altro romanzo, sì, sicuramente lo pubblicherò. L'altro romanzo è Senza padre e madre nei rimorsi. Sì, sicuramente lo pubblico, devo un po' vedere con chi al momento. Quindi aspettiamo. Aspetto il passaparola di questo, aspetto di promuoverlo più che posso questo, dopodiché sicuramente firmerò un contratto, sì, anche per quello. Te lo auguro. Senti, invece, un prossimo scritto inedito, ci stai già pensando? Ci sto già lavorando, sì. È ambientato tra il Sud America e il Salento, una cosa un po' strana. Autobiografia anche questa? Tutto reale, come anche nel secondo libro, ogni particolare è vero, ogni strada di una qualunque città è vera, ogni personaggio lo è. Mi piace questo stile. Assolutamente personale. Poi, insomma, distinguere, anche qualcosa ti distingue, magari, rispetto a tanti altri scrittori, insomma. Sì. Quindi, perché no? Anzi, dicevamo all'inizio, tu sei un artista, nel senso che ti occupi molto anche di musica. Sul tuo sito c'è una grande sezione dedicata proprio a questo. Fai concerti attualmente, stai pensando anche, continui a collaborare magari anche con artisti, ti fai delle performance? Allora, attualmente, dal punto di vista musicale, sono fermo. Sto lavorando per un progetto nuovo, però che si tratta comunque di voci sintetizzatori. Musica elettronica, quindi? Anche, non solo elettronica, anche con strumenti come il violoncello, suonato con lo wow, wow. Sì, certo. Però, insomma, il prodotto, penso, insomma, il disco che abbiamo intenzione di fare se ne parla comunque dentro fine dell'anno, insomma. Il discorso è abbastanza lungo, anche perché al momento sono più impegnato sul fronte letterario e mi piace anche di più. Venga, insomma, quindi figurati. Senti, ti vuoi chiedere una cosa. Il libro, come dicevo io, l'ho letto di un fiato e anche molte persone che l'hanno commentato hanno letto la stessa cosa. Ti va di leggerci un passaggio che per te è fondamentale, così magari invogliamo altre persone a comprare, insomma, questo libro? Allora, leggo una parte in cui, diciamo, più di azione. Prego. La camera è tua. Grazie. Passmontagna il casco a coprirgli la testa per il campo arato in direzione perpendicolare ed in senso opposto all'autostrada. Non c'erano dubbi. Era tornato nel mondo dei terrestri, dove rabbia, disperazione e paura dominavano incontrastati. Forse sarebbe stato meglio morire. Voglio tornare lassù, lassù, santo cielo, pensava mentre i suoi arti inferiori sgambettavano fuori controllo alla massima dinamicità che potevano generare. Non ci voglio stare più sul pianeta merda. No, no, no. No. Sentì i suoi piedi affondare nelle grosse zolle ricche di humus. Cadde e si rialzò. Ricadde e si rialzò di nuovo. Il dolore alle caviglie, alle ginocchia e soprattutto all'anca si fecero sentire presto, ma era come impazzito, come preso al lamo per una guancia. Un'altra volta, come durante il suo sonnambulismo. Però ora non stava scappando dalla visione della testa del suo fratello minore mozzata nel gabinetto, bensì da qualcosa di ben più terribile e scioccante. Non era un incubo quello, era la realtà. Incredibile ma vero, stava di nuovo muovendosi in modo primitivo. Stava deambulando sulle gambe come un comune mammifero bipede. Era costretto a sentire l'attrito radente sotto i suoi piedi, a sudare e faticare. E tutto ciò solo per muoversi in un modo così lento e goffo, in uno spazio appena bidimensionale. E tutta colpa della gravità, tutta colpa della gravità. Era impazzito per davvero. In quel preciso istante le sue gambe erano come le ruote infangate di un fuoristrada. Il piscio che gli collava giù per le mutande è un olio lubrificante. Il suo cuore fuori giri il motore. Il suo naso il radiatore. Le sue palpebre che sbattevano fuori bonte ai tergicristalli. La sua bocca maleodorante di vomito. Una sudicia marmitta puzzolente e rumorosa. Sono diventato una bara con le ruote. Sono una bara con le ruote in mezzo ad un campo di patate. Si sentì crollare il cielo addosso tutto intero. Smise di guardare a terra e alzò gli occhi. L'orizzonte era bassissimo di fronte a lui. Da quella misera altezza di circa un metro e ottanta tutto quello che poteva osservare si trovava nel raggio di pochissimi chilometri. Solo un migliaio di ettari di terreno erano inclusi nitidamente nel suo campo visivo. Le montagne sembravano altissime. Il mare chissà in che direzione era. Fece un giro su se stesso per contemplarsi attorno a 360 gradi, ma si fermò improvvisamente dopo tre quarti di percorso circolare. Allorquando ravvisò, distesa per terra, una temue figura umana di fronte a lui. Era lunghissima. La mise a fuoco meglio che potè. La seguì dall'alto verso il basso. Mi si riaccia. Finiva proprio dove lui poggiava i piedi. Era lei. Sì, sì. Proprio lei. Era tornata e non lo avrebbe mollato per un bel po' di tempo. La sua insopportabile ombra. Sergio Covelli, Zero Resto. Grazie Sergio. Bocca al lupo per questo libro. Aspettiamo quindi di vedere il prossimo. Benissimo. Ringrazio tutti voi per averci seguito e come sempre l'appuntamento è al prossimo libro. Grazie. 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 Grazie.